Riabitare il futuro. E questo è il titolo del volume curato dalle Caritas di Pescara Penne e Teramo Atri presentato a Teramo nella sede del Consorzio BIM. Un volume che nasce dal progetto AIR, Area, Investire e Ricostruire. Nato dalla collaborazione tra le due Caritas diocesane e finanziato con i fondi dell'8x1000. Obiettivo della pubblicazione è quello di diventare un oggetto di discussione pubblica e di finire in qualche modo nelle mani di decisori politici, affinché nelle loro attività di programmazione, della spesa pubblica, della locazione di fondi possano tener conto del punto di vista degli abitanti dei territori. Abbiamo il dovere di ricordare queste cose. Probabilmente lo scopo di questo lavoro, di questa pubblicazione è anche quello di non far spegnere i riflettori su una regione che potenzialmente avrebbe la possibilità di guidare l'intero meridione. Che cosa si può fare? Molto probabilmente è il percorso che ci interessa, che potrebbe essere riassunto in tre punti. Innanzitutto la dimensione della cura, di quelli che sono rimasti nelle aree interne e che hanno bisogno di grande assistenza. La seconda cosa è la promozione sociale, per far sì che i territori siano rivitalizzati. Oltretutto questi due territori, Pescara, Penne, Teramo, Atri, sono abbastanza contigui e anche innestati l'uno sull'altro, quindi una sinergia è opportuna. E la terza cosa è rivalorizzare tutto quello che è il patrimonio edilizio, perché è stato avvilito dal sisma, ma solo se si rivalorizza il contenuto storico artistico e il contenuto edilizio si riapre la strada anche all'accoglienza e al turismo. E nelle direttive di questo consorzio essere inclusivi e quindi oggi con grande soddisfazione che ospitiamo le diocesi di Teramo, L'Aquila, Pescara e Chieti, la Caritas con riferimenti proprio nazionali e la valutazione di uno studio fatto dal professor Veraldi sulle situazioni e condizioni in essere nei piccoli centri, insomma tra cui ci sono i 26 comuni del bacino in brifero montano. Una giornata di attenzione dove il BIM sente di essere ospitale, inclusivo e partecipativo per le soluzioni che usciranno da questo convegno. È un ottimo contributo di ricerca per poter conoscere la realtà e avviare quei percorsi che a mio parere non devono essere soltanto strutturali, ma devono avere anche una componente culturale e qui credo che le nostre parrocchie possano dare un contributo significativo.